Tutti sappiamo che l'Inter è una squadra fortissima, però i giovani, molte volte, senza rispettare la squadra avversaria, giocano e speriamo che i nostri giocatori faranno un'ottima gara in questo bellissimo stadio. Inter ha una squadra fortissima, sicuramente domani faranno un po' di cambi, non giocheranno con la squadra più forte, però per noi questo non cambia niente e noi giocheremo al meglio e cercheremo di fare un risultato positivo. Allora mi aspetto una gara molto intensa domani, ad alti livelli e spero che i miei giocatori giocheranno senza rispettare troppo la squadra avversaria, è sempre una gara 11 contro 11 e per noi sarà un'esperienza molto preziosa e noi non abbiamo niente da perdere domani.